La prima telefonata alla Caritas di Senigallia è arrivata intorno alle 20. Dopo mezz'ora erano già aperte le porte del seminario diocesano per accogliere gli sfollati di Senigallia e della provincia di Ancona colpiti dalle violente piogge di questa notte e soprattutto dalla massa d'acqua straripata dal letto del fiume Misa nel centro storico di Senigallia. Verso l'una io mi sono svegliata di soprassalto che sentivo mio fratello urlare. Ho messo un piede nell'acqua gelida e ho scoperto che la mia casa era tutta allagata. La casa adesso in che condizioni hai? Inagibile, tutto adesso da asciugare, da pulire e da rifare tutto. La casa? La casa è inagibile, piena di fango. Ci sono giù mio padre, mio fratello e mio zio che stanno spalando. E come siete arrivati qui? Ci hanno portato la Croce Rossa. Abbiamo raggiunto il picco dei 90 accolti, 90 sfollati e nei loro occhi si vedeva proprio il dramma di quello che avevano vissuto pochi minuti prima. Il dramma di perdere la casa, di perdere tutto, di trovarsi qui accolti senza nulla, alcuni nemmeno i vestiti. In un salone in alcuni corridoi sono stati sistemati tavoli e letti per l'emergenza. La prima notte senza casa è passata, la seconda sta per arrivare. Molte famiglie non hanno più casa, ma almeno adesso hanno la mano tesa della chiesa locale, dei volontari della Caritas e della Croce Rossa. Ci siamo messe a dare una mano, quindi preparare la colazione, il pranzo, cercare di dare una pulita, insomma una rassettata alla zona, all'ambiente per renderlo un pochino accogliente e vivibile. Perché fai questo? Perché non lo dovrei fare, come si fa a non fare niente in queste situazioni, perché è giusto.